Il programma Grecia Italia ha il principale obiettivo di sviluppare i nostri territori con un particolare interesse su tutta la regione Puglia, la regione della Grecia occidentale, la regione Pino e la regione dell'Isolaidò. Abbiamo finanziato il budget petale del programma che è pari a oltre ai 130 milioni di euro. In questo momento abbiamo finanziato 41 progetti. Tra questi 41 progetti c'è anche come protagonista il comune di Bacrasso, e su cui è un progetto su cui noi crediamo molto, crediamo molto su tutti quanti gli aspetti sugli output e soprattutto su un pieno coinvolgimento dei cittadini e un'interazione con i territori. Le nostre aspettative su questo progetto sono molto elevate. Siamo certi che soprattutto attraverso il comune di Bacrasso e in tutta l'area riusciremo a dare un segnale concreto di quello che è la rilevanza della cooperazione tra i nostri due territori. Abbiamo fatto un grande interesse per questo programma perché con il nostro patrimonio di Ziprus μποranno di sottolineare le συνεργazioni su questo comune.